Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anima in una storia, incancellabile... Benvenuta Margherita. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Io sono qui oggi sul podio di Italia Sì perché devo fare un appello, però prima di farlo vorrei raccontarvi cosa mi è successo. Vieni Margherita, accomodati, perché qui si tratta di una specie di giallo, anzi è un giallo che riguarda la vita di tante persone, di una in particolare, quindi ci sono una serie di indizi, una serie di indizi e un indizio finale, scusa se lo presento così, ma veramente è quello che poi voi avete fatto in famiglia in tutti questi anni, da quando tu sei nata e poi hai saputo e ricostruito, era il giugno del 1984, tu però è da quando hai 11 anni che hai saputo di questa cosa. Qui in studio c'è anche tua mamma, già commossa, signora Francesca, benvenuta. Adesso è un momento importante per la vostra famiglia, per voi e quindi dobbiamo aiutare chi sta a casa, in particolare una persona a seguire tutto e il pubblico a capire quello che è successo. Parlavo di indizi, un indizio legato a questo, non proprio a questo, ma insomma a un oggetto come questo. Sapete quei braccialetti che mettono ai neonati, intorno al polso del neonato, con nome, anzi con il cognome in realtà della famiglia. Allora, tu in realtà in quel momento eri ancora nel ventre di mamma, stai riuscendo nel ventre di mamma e fuori la sala parto, che cosa è successo quello che poi hai saputo? Che cosa è successo? Ho saputo che è successo che quando è arrivato mio padre con mia sorella che aveva 9 anni, hanno sentito mia madre che giustamente gridava per i dolori del parto e hanno sentito piangere un bambino. E' uscita dopo un po' un'infermiera e aveva tra le braccia un neonato, un maschietto. Maschietto. Chiamò mio padre, il cognome di mio padre, e gli fece vedere questo bambino dicendo che era suo figlio ed era un maschietto. Ed era un maschietto. C'era anche tua sorella? C'era anche mia sorella che aveva 9 anni. Che aveva 9 anni. Adesso ascoltiamo l'audio. La sorella non è voluta intervenire in studio, per ragioni sue, naturalmente rispettabilissime, però ce l'ha lasciato, questa con una testimonianza importantissima, perché la sorella era lì insieme al papà quando un infermiera ha detto ecco è nato ed è un maschietto. Sentiamo l'audio che ci ha mandato. Sì, ricordo che quel giorno eravamo in attesa nel corridoio della sala parto e sentivamo le urla dei dolori di mamma che stava partorendo e a un certo punto uscì un'infermiera con un bambino in braccio chiedendo il cognome di mio padre. Mio padre rispose sì, sono io e disse che era un maschietto. Dopo circa un 30 minuti arrivò un'altra infermiera chiedendo sempre il cognome e disse che era una femminuccia. Il giorno dopo mia madre tornò a casa solo con una femminuccia. Ecco, quindi nasce questo bambino, è nato il bambino, è un maschietto, poi nasci tu, ma tornate a casa mamma e papà torneranno a casa solo con te. Allora, bisogna dire una cosa importantissima. La mamma durante il parto, la signora che è qui in studio con noi, perde i sensi. Sì, a un certo punto sviene. Sviene durante il parto. Sviene dopo che ha sentito il dottore che diceva, dai l'ultima spinta, che si vede la testina. La testina, si vede la testina. E lì è svenuta per il grande dolore. È svenuta, la mamma sviene, la signora Francesca sviene per il grande dolore. La signora Francesca è lì, non ce la fa a parlare. Adesso la figlia naturalmente parla a nome di tutti, della sorella che è a casa e della mamma che è qui. Quindi, mamma sviene. Questo è un particolare, cruciale, perché mamma non partecipa al parto. Cioè, mamma, l'ultimo ricordo che ha è che gli dicono, si vede la testina, spinga, poi perde i sensi, mamma. E non sa più cosa succede. E non sa più cosa succede, perché ha perso i sensi. Nasci, quando tu nasci podalica. Io nasco podalica, con un giro di cordone umbilicale al collo anche. E lei si sveglia al momento che loro mi stavano cacciando, perché in effetti mi hanno proprio cacciato loro. Che hanno tirato fuori loro? Infatti, per tirarmi mi hanno un po' storto le osse delle spalle. Infatti mi è rimasto ancora un po' l'osso storto. La prova c'è, insomma, che sono stata tirata. E lei l'hanno lacerata, perché giustamente non potendo lei spingere, hanno dovuto tirarmi loro. Quindi, secondo la vostra ricostruzione, nasce il maschietto. Mamma, mentre sta uscendo il maschietto, sviene. Poi, l'infermiera esce, è nato il maschietto. Certo. Mamma, nel frattempo svenuta, riescono a tirar fuori te, ecco, con grosse difficoltà, un parto podalico. Facciamo un passo indietro. Prima del parto. Siamo in sala parto. Mamma, che non ha fatto alcuna ecografia. Mai, in tutto la gravidanza. In tutto la gravidanza. Un po' erano, nel 1984 si usava poco, un po' erano costose, un po' non si sa perché. Non si sa perché, diciamo, in parte. Mettiamo anche quello. Eh, forse si sa, dici tu. Non ne fanno ecografie. Ma, mamma, conduce avanti la gravidanza e a un certo punto dicono, sono due gemelli. Sì. Se ne accorgono come? Sentendo? A parte che mia madre aveva preso tantissimo peso e lei è sempre stata una donna abbastanza magra. Era arrivata a 100 kg. Quindi ha preso 30 kg. Quasi 30 kg. Quasi 30 kg. Cosa che con la prima gravidanza non gli è successo. Ma tua sorella ricorda, scusa che faccio un passo indietro, tua sorella ricorda il cognome, scritto il cognome vostro, scritto? Sì. Questo è un esempio, eh, del braccialetto. Ricorda il cognome, quindi era stato assegnato. C'era il cognome scritto sul braccialetto. Signora, vedo che facendo di sì. Quindi era stato detto, è il vostro, è il figlio. Sì, perché l'infermiera ha chiamato il cognome di mio padre, ha detto, è suo figlio. È il suo figlio. Quel cognome. C'era scritto. Proprio cognome. Torniamo indietro. La signora a un certo punto si accorge che ha due gemelli in pancia, no? Ha due gemelli. Quando vanno in sala parto per il monitoraggio. Sì, sentono due battere. Come si chiama quello del cuore? Vabbè. Vabbè, insomma, si sente il cuore battere, no? Traverso il monitoraggio per sentire il bambino. Con il tracciato. Il tracciato per sentire se c'è una sofferenza fetale. Se c'è una sofferenza fetale. Allora, sentite adesso, guardate, si capisce poco, però c'è una differenza. Il battito cardiaco quando c'è un solo bambino in pancia. E' questo. Ok. Questo invece è il battito cardiaco quando ci sono due cuoricini nella pancia. Quando c'è un battito che si sente più forte perché sta lì lo strumento. un altro un po' più lontano perché l'altro bambino è dall'altra parte. Sentite? Ecco. Non è chiarissimo naturalmente, ma è così. Cioè, si sentono due cuoricini. Inoltre, c'è il tracciato. C'è il tracciato che segna i battiti cardiaci. Inoltre, l'infermiera dice, sono due. Certo, lei sentiva che dicevano che si sentivano entrambi i cuoricini. Quindi. Quindi erano due. Quindi erano due. Altri elementi. La mamma ha avuto in famiglia altri parti gemellari. Sì. E si sa che c'è un suo fratello. Anche mia nonna, sua madre. Però alla nascita poi uno dei due è morto. Quindi sì. Ecco. Quindi tutta una serie di indizi. Alcuni importantissimi, come questi battiti cardiaci. Ma quando tornate a casa, torni solo tu. E l'altro bambino no. Tu nasci e hai bisogno, l'hai littero, e hai bisogno del, come si chiama, la culla termica. Sì, di stare in incubatrice con le lampade e le bende, no? Delle lampade. Ecco. Quindi rimani lì? No. No. Mio padre non ha voluto assolutamente. Mio padre non vuole che tu rimanga lì? Mi ha portato via un giorno dopo sia me che mia madre, sì. E che motivazione dà per questo? Che non voleva, che si doveva fare come diceva lui. Non vuole fare avanti e indietro? Che non voleva fare avanti e indietro, che non voleva sprecare i soldi della benzina, che si doveva fare come diceva lui. Basta. Lui non era uno di molte, non dava tante spiegazioni, era un autoritario, quindi si doveva fare come diceva lui. Immagino i medici dicessero, no, deve stare qui perché è a littero. Sì, come no? Infatti il dottore gli disse se la portate via avrà problemi seri alla vista, e invece lui mi porta via. Nei giorni successivi tua sorella, che è la più grande di te, aveva 9-10 anni, e tua mamma dicono, ma quel bambino, erano due, papà che cosa dice? Che si erano sbagliati, si erano confusi, non era figlio loro, non era mio fratello. Cioè che l'infermiera si era sbagliata? Si era confusa. Confusa. Toglio delle carte qui perché gli indizi sono tantissimi. Quindi dice, papà dice, guardate che si è sbagliata l'infermiera, è infastidito da questa domanda? È rimasto infastidito? No. Io non c'ero, però come dicono... No, no, sto guardando anche mamma. Ecco, non infastidito, però la liquida così. Ecco, non è stata... Attenzione qui. Stiamo arrivando al punto fondamentale perché tu, un bel po' di anni fa, scopri questa cosa e la tua vita cambia. Da quel momento ha in testa solo una cosa. Trovare questo fratellino che ha perso, che non si sa che fine abbia fatto. Loro sono convinti che quel fratellino sia nato e non sanno che sorte abbia avuto. Ecco, dobbiamo andare un po' sulla figura di papà, ecco, perché questo è un punto fondamentale. Mamma, mamma era una ragazza, era innamorata di un altro ragazzo, molto innamorata la signora Fampi Cenni, era molto innamorata. Un giorno la zia gli dice, sai che c'è? Abbiamo preparato un corredo, così vi potete sposare. Vi potete sposare. E porta, però, porta mamma da un'altra persona. Non solo, questa persona dà dei soldi alla zia. Dà dei soldi questa persona. Non c'è nessun corredo. No. E mamma si è sentita come sequestrata, come se fosse obbligata a stare lì. È stata letteralmente chiusa dentro. È stata chiusa? Sì. Chiusa a chiave. Allora non sequestro. Adesso non sequestro tutti gli effetti, se è stata chiusa a chiave. Non solo. Non solo. Scusate, ma questa è una cosa, una violenza incredibile, no? Una violenza insopportabile che ha vissuto mamma. Perché a un certo punto questa persona, quest'uomo, la costringe dai rapporti? Sì. La costringe ai rapporti. La costringe ai rapporti. E nasce. Rimane incinta. Mamma rimane incinta. E si va verso il matrimonio che dovrebbe mettere tutto a posto. Quest'uomo aveva già altri figli? Sì. Aveva già altri figli. Era divorziato? No, separato, quindi non si sono sposati, hanno convissuto. Hanno convissuto. Sì. E quindi, mamma è convinta di essere stata come venduta. Questa è molto più di una convinzione, no? Che mamma è che si porta dentro. Questa donna è vissuta così, si è trovata in una situazione che non voleva, ha dovuto lasciare il ragazzo che voleva sposare, si ritrova dentro una storia che non voleva con un uomo che la chiude a chiave e che nasce questo bambino. E mamma, sopporta tutto questo. Quindi, mettendo insieme questo, il carattere di quest'uomo, che carattere aveva papà? Era molto autoritario, come ho detto prima. Era prepotente ed era una persona che per soldi avrebbe fatto di tutto. Si sarebbe venduto anche la mamma col padre. Stai parlando di tuo padre? Sto parlando di mio padre, lo so. Gli ho anche voluto bene, perché comunque io poi sono andata via da lui, che avevo 12 anni, quasi 13, quando mia mamma ha avuto il coraggio di andare via da lui. Gli ho voluto bene tanto, perché da bambina tante cose neanche le capisci. Però lui era così. Poi crescendo ho realizzato davvero come era lui. Era una persona che per soldi avrebbe fatto di tutto. Questo mi fa pensare di più che lui possa essere legato in qualche modo a questa cosa. Cioè l'idea che vi siete fatti e che sia successa una cosa orribile, cioè che vostro e tuo papà... Anche non ne sono sicura, non ne sono certa, è solo un mio pensiero. Crescendo ho avuto questo sentore, non so perché. È una cosa mia, è una mia idea che mi sono fatta. Per quello che hai saputo, che periodo era quello per la famiglia da un punto di vista strettamente economico? Ma ti posso dire letteralmente, noi abbiamo sempre fatto la famiglia. È sempre stato, tutti gli anni che ho vissuto con lui, è sempre stato un periodo brutto. Nel senso che non abbiamo mai avuto soldi a sufficienza per vivere bene. C'era un costante bisogno di soldi. Adesso papà non c'è più, a un certo punto si è anche ammalato e tu e tua sorella l'avete anche accudito. Noi insieme anche agli altri fratelli siamo stati vicino a lui fino all'ultimo. Fino alla fine. Sì, perché era giusto così. Questo sentivi il dovere comunque di fare questo. Però quella storia di quel fratellino non te la sei mai dimenticata. A un certo punto vai a cercare, vai all'anagrafe e vai a vedere quel giorno che non possiamo dire, per ragioni di privacy, però possiamo dire che era del giugno dell'84. Fine giugno, dai, diciamo fine giugno. Fine giugno, 84. Vai a scoprire, scopri che è il giorno della tua nascita, in ospedale, non sei nata solo tu, ma sono nati altri bambini. Sì. Sono nati altri bambini e un maschio. E un maschio. È nato un maschietto. Questo particolare mi ha colpito perché mia madre, quando è uscita dalla sala parto e le infermiere la portavano verso la sua camera, lei ha sentito queste infermiere che dicevano proprio, oggi sono nate tutte femmine, solo un maschio. Solo un maschio. Ecco. E mamma ritiene che era l'altro suo figlio, quello che c'era in pancia, quello che aveva sentito, c'erano due gemelli, i cuoricini doppi che suonavano, l'infermiera col bambino, tutta una serie di indizi precisi. A un certo punto scopri che è nato un maschietto, scopri il nome, lo vai a cercare. Dove lo cerchi? Sui social. Sui social. Però non ho potuto più di tanto perché non volevo sconvolgirgli la vita perché se poi lui non sa... Trovi la fotografia. Certo. Trovi la fotografia perché lei va all'ospedale, in qualche modo insomma viene a sapere del nome e del cognome di questo bambino nato allo stesso giorno suo. Lo va a cercare sui social e che cosa scopri? Che non è molto distante da dove abito io. e che è stato iscritto all'anagrafe 12 giorni dopo dalla sua nascita. Questa cosa è un po' strana perché penso anche... All'anagrafe bisogna iscrivere entro 10 giorni. Penso anche oggi ancora entro 10 giorni. Invece lì è il dodicesimo. Su 10 giorni bisogna fare la richiesta al tribunale dei minori della provincia dove si risiede e per avere... dicendo il motivo. Certo, del ritardo. Sì, del ritardo. Quindi un altro elemento strano. Insomma, lei che ha bisogno di stare in incubatrice invece decidono di portarla via subito. Questo bambino chissà se forse ha avuto problemi o cosa... Magari ha avuto lo stesso mio problema, non si sa, però il mio pensiero è quello. Certo. E lo iscrive all'anagrafe dopo 12 giorni. Ma il punto che mette insieme tutto è che tu vedi la faccia di questo uomo. Vedo la faccia. Chiaramente. Alla tua stessa età. Alla mia stessa età, la stessa data di nascita, non somiglia a me, ma somiglia a mia madre quando è ragione. E' quasi la fotocopia di mio zio, il fratello di mia madre. Allora... Da giovane. Da giovane, chiaramente. Sempre da giovane. Eccola qui. Comunque noi abbiamo raffrontato queste fotografie. La somiglianza tra questa persona che è nata lo stesso giorno che sei nata tu e tua mamma della stessa età più o meno è impressionante. E' veramente impressionante la somiglianza che c'è. Chi è? Quella piccolina è mia sorella, sì. Ecco, somiglia veramente tantissimo. Sì, qui tantissimo. Allora, adesso ti lascio il podio, ti lascio la telecamera, perché tu vuoi essere molto delicata in quello che stai dicendo. Ti rendi conto che potresti sconvolgere la vita di una persona. Però forse invece potresti dare la verità, non solo alla tua famiglia, ma a questa persona. Quindi prego, per commentarti sul podio, ti lascio fare l'appello per il quale sei venuta qui, sul nostro Pickers Corner. Sono qui e mi rivolgo a te direttamente. Se anche tu hai avuto qualche dubbio o ti sei riconosciuto oggi in tutto quello che io ho raccontato. Io sono qui e ti sto cercando. Non sto cercando un colpevole e non voglio accusare... Scusate. Prego, non ti preoccupare. Nessuno, non cerco un colpevole. Cerco solo mio fratello, quindi... Quindi tu ci sei. Se tu ti riconosci in me, io ho bisogno di te perché mi manca qualcosa, mi manca la mia metà. Il tuo fratello gemello. Nato 45 minuti dopo di te, Nathalie, mentre mamma... Sì, alle 10.30 lui e alle 11.15 io. Allora guardiamo la fotografia, guardiamo ancora una volta la fotografia, perché la somiglianza è una somiglianza forte, diciamo, con mamma, ma anche dello zio, mi dicevi, no? Sì. Molto somigliante allo zio. Uno dei fratelli di mia madre, sì. Uno dei fratelli. Tu di dove sei? Dove abiti? Dove sei nata, anzi? Sono nata a Formia. A Formia. E abito lì vicino. Ecco, e la persona che ritieni a essere tuo fratello abita lì vicino. Ecco, questo è un altro indizio importante. E siamo nel giugno del 1984. Di più non possiamo dire? No, perché se lui non sa, io non voglio sconvolgere la vita. Però se lui sa, o magari si è sentito anche lui a metà, come me, io sono qui. E lo aspetto a braccia aperte. Vediamo, Margherita. Vediamo anche i nostri contatti. ItaliaSì. Chiocciolarai.it Potete scriverci. Naturalmente, come volete, nella massima discrezione. Vi metteremo in contatto, se vorrete. Mi auguro davvero che tutto questo possa avvenire. Per risolvere un nodo che si è portato avanti per tutta la vostra vita. Un dolore che avete dentro. E anche per restituire una gioia a mamma che ha sofferto tantissimo. Sì, tanto. Tanto. Grazie, Margherita. Grazie a voi. A presto, spero. Grazie.